Big Deal in Madonna Street in Inghilterra, Rufufu in Spagna e Les Pigeons in Francia. Questi sono i titoli delle varie edizioni straniere del film I soliti gnoti di Mario Municelli, uno dei grandi classici del cinema italiano, considerato dai critici e dagli storici come il primo esempio di commedia all'italiana. Il film nasce per sfruttare le scenografie del film Le notti bianche realizzato nel 1957 da Lucchino Visconti con Marcello Mastroianni e si realizza, si vuole realizzare un film che faccia un po' la parodia di quelli che erano i film noir, i film sia francesi che anche americani, incentrati sul colpo perfetto, una serie di pellicole che andava molto di moda negli anni cinquanta. In particolare si rifanno a un film che era Riffifi, un film francese del 1955 e in un primo momento Mario Municelli ne vuole fare proprio una parodia, tant'è che il titolo provvisorio è Rufufu che verrà mantenuto poi anche nell'edizione del film editato appunto in Spagna. Poi il film cambia ancora titolo doveva chiamarsi Le madame che era il titolo che veniva dato nell'ambiente malavitoso ai carabinieri e per non avere di problemi con la censura poi fu cambiato nel quello che è oggi appunto il titolo I soliti ignotti. La trama, se la si legge, non ha nulla di particolare perché abbiamo una banda di scalcinati ladri che tenta il colpo del secolo, cioè tramite appunto un appartamento attivo al Monte di Pietà volevano appunto distruggere questo muro che separava i due appartamenti e riuscire ad aprire questa comare, cioè questa cassaforte. Questa è la trama che non ha nulla di così originale se non come tutto il film è realizzato, come la storia è trattata. Il punto di partenza naturalmente sono gli sceneggiatori, la grande importanza, il grande successo e l'arte proprio della commedia all'italiana stra proprio nella scrittura, nella sceneggiatura che qui viene trattata in maniera particolare perché non si tratta più soltanto di una semplice commedia che deriva dal spettacolo, che ha delle derivazioni dal neorealismo, dal neorealismo rosa eccetera, ma la commedia, come dice il regista, diventa una cosa seria. Si fa tutto un lavoro con age, scarpelli, monicelli e suso, cecchi d'amico, tutto un lavoro importante di scrittura nei dialoghi che non sono improvvisati. Ci sono dei tempi comici molto importanti, vengono inserite delle gag, vengono inserite dei nonsense e i dialoghi diventano proprio frizzanti, c'è della comicità anche nelle situazioni stesse ed è qui che sta il grande successo e il grande risultato del film. In tutto questo c'è una grande regia di Mario Monicelli, molto moderna, con una macchina da presa molto libera che esplora quello che sono i vari personaggi e poi una bellissima fotografia, una fotografia che volutamente è fatta con un bianco e nero molto contrastato che era un tipo di fotografia utilizzato per lo più per i film drammatici, per cui è molto interessante questo contrasto fra il contenuto del racconto e la sua fotografia, cioè come sono appunto le immagini che sono veramente bellissime, una fotografia in bianco e nero meravigliosa. L'altra parte innovativa riguarda la colonna sonora. Piero Migliani, che fa la sua prima composizione per un lungometraggio, è una musica completamente diversa da quella che c'era in precedenza. Precedentemente venivano utilizzate delle musiche sinfoniche, mentre qui utilizza tutta una serie di motivetti jazz, rendendo tutto il film molto più frizzante e molto più moderno. E l'ultima parte fondamentale naturalmente è il cast, cioè gli attori che vengono scelti sono tutti sullo stesso livello, cioè non abbiamo il primo attore, il secondo attore, ma il film è una pellicola corale. Abbiamo Marcello Mastroianni, che all'epoca stava diventando uno degli attori del cinema d'autore, aveva appena girato Le Notti Bianche con Visconti e poi diventerà un vero e proprio divo con i film di Federico Fellini. E poi abbiamo anche Vittorio Gasman, cioè Mario Monicelli fa una scommessa, cioè decide di portare nel cinema di commedia Vittorio Gasman, che fino all'epoca aveva fatto quasi tutti i film drammatici, era il cattivo, l'antagonista per Antonomasia, basta pensare ai suoi rosi in riso amaro, in Anna e in molti altri film dei primi anni cinquanta. E qui gli viene messo un naso posticcio e delle orecchie particolari e fa questo pugile che si chiama Peppe, che è un po' suonato. Poi abbiamo anche altri attori importanti, come Renato Salvatore, che diventerà celebre con la saga dei poveri ma belli, e poi Tiberio Murgia, che resterà un po' imprigionato in questo ruolo del siciliano geloso, anche se in realtà lui era sardo, non era siciliano. E stessa cosa anche per il ruolo di Carlo Pisacane, che interpreta appunto questo vecchietto che si chiama Campanella, che parla con accento bolognese e doppiato da Nico Peppe, che in realtà invece era un noto, un notissimo attore dell'area appunto napoletana. Poi abbiamo anche in questo film la prima interpretazione di Claudia Cardinale, che era nata a Tunisi ed era proprio sotto contratto con la Vides che realizza questo film ed è il primo suo ruolo importante. Tra l'altro l'attrice era segretamente in attesa del suo primo figlio. È presente anche, molti non lo sanno, Monica Vitti all'interno del film, non come attrice ma come doppiatrice dell'attrice appunto Rossana Rory e Monica Vitti appunto in questo periodo doppia molto perché la sua voce era una voce particolare e piaceva molto. Ed è proprio grazie a questi doppiaggi che Michelangelo Antonioni la scoprirà e la lancerà per appunto per i suoi film, come ad esempio il bellissimo L'Avventura. Del film sono stati fatti anche di seguiti come il famoso L'audace colpo dei soliti ignoti diretto da Nanni Loi nel 1959 dove il personaggio di Mastroianni che impersonava Tiberio viene sostituito da Nino Manfredi. E poi c'è anche i soliti ignoti vent'anni dopo che riunisce Gasman, Mastroianni e Tiberio Murgia in questo film realizzato nel 1985. Tanti sono gli omaggi nel cinema anche americano ma non solo, come ad esempio Woody Allen nel suo film di primi anni 2000 che si intitola Criminali da Strapazzo dove proprio omaggia i soliti ignoti con questa perforazione di questa parete per riuscire ad aprire una cassaforte e poi anche Louis Malle nel film Crackers del 1984. Si tratta dunque di un grande capolavoro del cinema italiano ancora oggi molto godibile che apre le danze di quella che sarà la vera e propria commedia all'italiana, uno dei generi di più successo e più profiqui della nostra cinematografia. sapere zwar Grazie a tutti.